anche chi mi ha mangiato in questo posto c'era scritto con la magna di napoli guarda guarda aspettalo ci guarda il tavolo c'è un po' di consigli su come mischiare il piatto e quindi non è adesso mangiano con sti tè bocchi ce la mangiamolo a un po' di no a tappo i due a a a a a a a a Buon appetito! Questo è il nostro, è il nostro. Ok, ecco. Questo piatto è molto caldo. Bello, bello. Non, non, se dovete mangiare. Qui c'è il cucchiaio per mangiare il riso. Sì, io farò ogni cucchiaio. No, non c'è, si mangiava con il cucchiaio. Pops, c'è la slye. Crebuno. Sì. Che cosa succede? Chi è? Che cosa succede? Questo? L'està! La carota Una calciera Vabbè ho mangiato No, la ricetta E' davvero buono Quello mio E' buonissimo Ma ce ne vuole che non mangiaste cose Madonna 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 Che è sto Che è la mia faccia Sto roba Di trugio Mi oduro Gammie E io Tutto tutto quello Prenderlo Però Non mi avrei mudo Ah ma questo è quello piccato Io non mi ricordavo Dove è? No, no, no E' piccato E' questo qui lo è Che torno Quello fritto E' questo E' piccato Sono gnocchi No, gnocchi l'ho mangiato No Mi fassi No, però beve Non mi ricordavo Che torno Mi fassi C'è un giudio Mi fassi Mi fassi Mi fassi Mi fassi Mi fassi Certo.. 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 Ah, sta volendo! Ma siamo avuti in un po' Mi piacate! Certo.. Sì.. ... Si per dotare il buon indietro! Ok? Ok.. No, no, no! Sì? Buongiorno, buongiorno. Grazie. Nu... 아직도 기다린 사람들이 있네. 지금 10시 반이네. Ok, abbiamo solo un menù. Ci vuole un'acqua, 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 un'acqua? Un'acqua, ok. Siamo un'acqua. Ci sono potenti? No, credo che ci sono bisogno. Un'acqua, un'acqua, un'acqua. Un'acqua, un'acqua. Un'acqua, un'acqua. Grazie mille. Grazie. Un'acqua, 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 un'acqua. Grazie. Perfetto. Tu vuoi provare? Proviamo. Un po' dolce. Un po' dolce? Sì. Scusami, mi chiamo Benedetto. Filippo. Filippo, Paola. Paola. Piacere. È peccato che non ci sia a Napoli. Mi dispiace perché solo tre, quattro persone. Pochi a Napoli. Sì. Solo Kim. Ma tu vivi qui a Napoli? Sì. Lavori qui a Napoli. Sì. Adesso devi ancora imparare a stare con il mio maestro. Oh. Come si chiama il tuo maestro? Antonio Pascariello. 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 No, questo l'hai fatto tu? Sì. Bravo. Bravissimo. Pascariello. E per gli amici fa gli un spessial prez. Grazie. Mi fatto chiarire. 자, 7번 먼저 나가면 돼요, 2개. 2개 먼저 나가는 거야? 그것ta 2개부터, ok. Adius, Arroaas. Good job! Grazie! Buon appetito! This Elizabeth is getting físo This place is terry 겟. Got so many subscribers by the staff? Well, what the same is that... OK Ok. 2. 오이 알러지 테이블. 한 테이블. 아 이거 닭강정. 이거 좀. 럭키 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 하셨어요. 오이 대신 이게 훨씬 더. 훨씬 더. 다 드릴게요 다. 서비스로. 늦게 늦으셔서 닭강정. 치킨. 코리안 스타일 치킨. 와. 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 un po' di più uscite il taglio? sì, meglio però non c'è perché un po' di disolente è veramente buono grazie abbiamo scelto bene l'unico coreano io sono unico coreano quasi mio fratello è stato in Corea mio fratello medico nucleare vedere rappresentante della medicina nucleare dell'ONU l'America lo ha mandato lì dice che questo qui voleva mangiare italiano questo è un italiano napoletano questo qui ha mangiato perché stava contentissimo degli nostalgiche dei piatti coreani un po' sì il ricordi di casa Sì, 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 sì. E' una cosa fai. Sì, è perfetto. È perfetto. È perfetto. È perfetto. Uno più uno. Uno più uno. Uno più uno. Ok? Eccitante. È tutto. È tutto. È tutto. È tutto. È tutto. c'è un sacco, un colpo e anche che non lo so, ma buonissi c'è buono guarda va tutto guarda va tutto guarda va tutto ok vabbiamo ad un po' e poi vediamo e poi Sì, sì, sì. Mio 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 Ok, una maccholina, una poppa. Ok. Ok? 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 Sì, sì, sì. Sì, è stato fatto che non soppi 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 Sì, la prima cosa Sì, la prima cosa Sì 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 Ok, grazie! Questo è molto caldo. Be careful! Sì! 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 Sì, 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 sì. 55 giorni 35 giorni 30 giorni tipo quindi non c'è nessuno Ci sono persone molto è un po' È un po' di messa! È un po' di messa! È un po' di messa! La prima volta, è un po' di nuovo! Non ci sono ancora una nuova! No, non ci sono! Ci sono due due due! Buongiorno, buongiorno, buongiorno.